Donandola definiva una città dentro la città. La realtà del Centro Benedetta Cuarone ha questa impronta, ovvero di essere accogliente nei confronti di tutti e pronta a fronteggiare ogni difficoltà della persona. In questa ottica, nei giorni scorsi, è stata inaugurata una nuova sala dell'area disabilità, destinata da ospiti con difficoltà intellettiva e motoria. Questa è una sala dedicata a 26 dei nostri ospiti, 13 diurni e 13 residenziali. Sono persone affatte da ritardo mentale, ma soprattutto hanno in associazione disturbi motori, sensoriali e di comunicazioni. La nuova disposizione dei locali ha comportato anche una nuova definizione dell'attività del programma di riabilitazione denominato Noi Oltretutto. Attualmente abbiamo quindi potuto realizzare una grande sala che è possibile utilizzare sia separatamente, perché i ragazzi sono tanti e necessitano di lavorare a piccolo gruppo, utilizzando la porta scorrevole che quando viene chiusa rappresenta una vera e propria parete, sia potendo beneficiare di uno spazio invece ampio per tutte le attività ricreative, di animazione, visione di film, eccetera. Anche gli arredi sono stati pensati per poter essere utilizzati in modo differente a seconda delle attività che andiamo a proporre. La realizzazione è stata resa possibile grazie alla generosità di tanti benefattori e al contributo del distretto Rotary Genova. Queste tecnologie sono uno schermo multitouch multimediale, una smart tv collegata a internet, due pc portatili e quattro tablet. La cosa importante è che anche i tablet sono collegati con lo schermo multimediale, quindi le persone che non possono interfacciarsi con lo schermo touch possono comunque utilizzare il tablet e quello che loro fanno nel tablet viene comunque visto nello schermo comune, quindi questo garantisce un'attività di gruppo partecipata e diciamo delle pari opportunità nonostante le singole diverse difficoltà.